Hola Todes, eccoci qua, torna finalmente Time's Up, dopo un breve periodo di pausa, tranquilli, io sto lavorando, sto mettendo posto, cerco ospiti, anche un modo per fare le cose bene, ci tengo, è una cosa importante per me, è un bel progetto almeno, mi piace reputarlo un bel progetto. Oggi parliamo di calcio, diamo una prima notizia, non è vero che chi ama il rugby odia la palla tonda, questo è importante da sottolineare. Oggi però non parliamo di calcio nella maniera normale, standard, oggi raccontiamo una storia, una storia che si sta verificando in questi giorni in Spagna e riguarda il Rayo Vallecano. Intanto premessa, cos'è il Rayo Vallecano? Il Rayo Vallecano è una squadra di Vallecas, che è un quartiere di Madrid, è un quartiere operaio, tradizione operaia, antifascista, ed è una tradizione che riguarda tanto anche la tifoseria, in particolare i Bucaneros, che sono il principale gruppo del tifo organizzato, che esiste dal 1992. Il Rayo, oltre ad avere tutta una struttura di istituzione giovanile, ha due squadre i Signores, ha la squadra maschile che milita nella seconda, cioè la Serie B spagnola, e la squadra femminile che milita da molti anni nella Primera Division, ed è una delle squadre più note della Primera Division spagnola. In passato ha avuto anche successi importanti, adesso meno, però comunque resta una squadra di alto livello nel mondo calcistico spagnolo femminile. La puntata di oggi è dedicata proprio a questo, al Rayo Vallecano femminile e al sandwich della discordia. Cosa è successo? Diamo prima i dettagli della cronaca, poi un breve commento. Il Rayo, come tutte le altre squadre del mondo, ha alcune partite che vengono rinviate, recuperate a causa della pandemia. Una di queste partite dovrà essere disputata a San Sebastian contro la Real Sociedad, altra squadra storica del calcio spagnolo, e che ha anche una sezione femminile di successo. Madrid-San Sebastian non è proprio dietro l'angolo, è una trasferta lunga. La trasferta non viene fatta con i mezzi normali che si farebbe. Si decide di fare in pullman, quindi sono 600 chilometri in pullman da Vallecas a Uscalerria, si fa la partita e si ritorna. La squadra, ovviamente, dopo la partita deve mangiare e la società ha predisposto un pranzo a sacco, ma letteralmente un pranzo a sacco. Attenzione, il menù prevede due sandwich, due, di cui uno al pollo e uno al prosciutto, e due mele. Ma proprio il cestino come si fa a scuola con le scolarestri elementari, eh? La versione ufficiale del Rayo è che questo menù è fatto per il recupero sportivo, quindi qualcosa che non appesantisca, che non intervenga troppo sui carboidrati, e tutte queste cose nutrizionali. Ovviamente la sproporzione che c'è è il fatto che la squadra maschile fa tutto un suo percorso con eventualmente anche l'aereo se serve, c'è il ristorante e tutto. La squadra femminile deve viaggiare in Pullman, un giorno in Pullman, e ha il pranzo a sacco veramente come le scolaresche. Quindi una sproporzione di diritti notevole. Le ragazze cosa hanno fatto? Hanno denunciato pubblicamente questa cosa, quindi hanno parlato, hanno fatto poste con social e così via, e hanno mandato lettere ai quotidiani in cui hanno raccontato questo fatto qua. La presidenza del Rayo, che in mano a Raul Presa, personaggio che da molti anni è soggetto a una lunga contestazione da parte della tifoseria, ma su questo non entro, ha detto testualmente che la denuncia delle giocatrici è un atto di estorsione organizzata. Questo è testuale, eh? La denuncia, ovviamente, la denuncia di estorsione da parte di Presa, Haskell ha reso la vicenda ancora più incredibile e ne ha allargato le proporzioni. Perché? Intanto si sono esposti i giocatori del Rayo Vallecano, in particolare Pozzo, che ha espresso solidarietà ai giocatrici, mostrando evidentemente come il problema sia palese a un professionista, a un atleta che conosce quali sono le dinamiche. Bisogna considerare anche un altro aspetto importante. Le giocatrici del Rayo sono indietro di un paio di mensilità. La società questo lo ha ammesso. Raul Presa dice che verranno pagate a breve. Però anche questo, secondo me, è molto indicativo. Ma non solo si sono esposti i giocatori del Rayo, si è esposto anche il mondo sociale e politico. Per esempio, in solidarietà si è esposta Cristina Pedroce, che all'appassionato di sport dice giustamente zero, perché Cristina Pedroce è una nota showgirl ed è una notissima tifosa del Rayo. Ha sempre vantato le origini da Vallecas e il tifo per il Rayo e quindi è una figura pubblica che è molto legata al mondo del Rayo Vallecano. E Cristina Pedroce è stata categorica, si è schiata con la squadra, ma anche la politica. Infatti c'è stata un'interrogazione pubblica da parte del gruppo Mass Madrid, che è legato sostanzialmente a Podemos e in particolare della sua referente, che è Rita Maestre, che in passato è stata una delle prime grandi protagoniste di Podemos e adesso resta in quell'intorno politico, ovviamente, nella sua città, cioè Madrid. Infatti la notizia l'ho ripresa dai social di Rita Maestre, che ha mostrato la mozione fatta da Mass Madrid al Consiglio Comune Madrilegno. Ora, qual è il dato di fatto? Il dato di fatto è che noi abbiamo una storia che mostra la vera questione delle lotte, per esempio, delle giocatrici statunitensi, l'immagine di Megarampino ce l'abbiamo, il discorso contro Trump, insomma, c'è quello, c'è la lotta adesso in Italia per il professionismo femminile, c'è la nomina, per esempio, di Salagama alla vicepresidenza dell'Associazione Italiana Calciatori, che è stata una nomina molto celebrata su parità di genere e così via. Ma la parità di genere non è solo mettere Salagama alla vicepresidenza della FIGC, delle squadre dell'AIC o qualunque altra carica elettiva. La parità di genere è una parità in termini pratici, non è la statuina, è nelle azioni quotidiane, nel comportamento quotidiano, quindi di trattare le atlete per quello che sono, cioè professioniste. E a parer mio non si tratta un atleta professionalmente dando due mele e due sandwich. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e ci sentiamo presto, spero già la settimana prossima.